e eventi sportivi nella capitale, un nuovo venerdì sul clima, domani a scendere in piazza saranno le donne di non una di meno e domenica agli animalisti a punto, Carla Cucchierelli. Dagli studenti alle donne, dagli animalisti allo sport, si annuncia un fine settimana complesso nella capitale, torna il venerdì del popolo di Greta, l'appuntamento alle 15.30 a Piazza del Popolo, in mattinata invece tra le 10 e le 14, doppia manifestazione degli studenti che si concentreranno alla Piramide e a Trastevere davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, i due sit-in potrebbero confluire la protesta contro la riforma dell'esame di Stato. Sabato a scendere in piazza a Montecitorio alle 14.30 saranno le donne che contestano il Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona definito di stampo patriarcale da Roma alla volta di Verona. alle 5 del mattino partiranno invece dei pulmoni organizzati per colorare la città veneta. Domenica sarà il giorno degli animalisti che si sono dati appuntamento a Piazza San Giovanni alle 15.00. Si annuncia una manifestazione imponente per chiedere il riconoscimento dei diritti degli animali non più considerati come oggetti. Sempre alle 15.00 la grande sfida tra Roma e Napoli all'Olimpico. Dopo il robo che ha interessato il PN...